A quattro passi della città, nelle periferie, abbiamo una grande sana agricoltura. E' quella che comunque la domenica ci porta i prodotti freschi. Noi qua siamo accanto all'azienda Schillace, qui a due passi a Cantorato, per raccontarvi anche una storia, una storia triste, che è una storia comune e di tutti coloro che in questi ultimi tempi di Covid hanno un invenduto proprio nei terreni. Allora, qual è la vostra difficoltà? Come azienda, oggi come oggi, rimane il farmer market come punto di riferimento, perché purtroppo la grande distribuzione è andata a rallentare per via del Covid, quindi abbiamo come punto di riferimento il farmer market. Gli altri mercati, in un anno, abbiamo avuto tante perdite, a parte, vabbè, la pandemia, poi abbiamo avuto anche problemi di allagamenti, via dicendo. Un'annata da dimenticare, insomma. Un'annata idrogeologico, quindi, insomma, stiamo uscendo da un anno un po' particolare, parliamo per tutti gli agricoltori, per il fatto di queste due cose che si sono congualate. E poi, insomma, a parte che noi come azienda qua abbiamo questo punto di riferimento e riusciamo più o meno a difenderci bene, insomma, a smestare un po' di prodotti nostri. Allora, parliamo anche di un'importazione, no? L'importazione spietata che purtroppo snobba un po' il prodotto locale e da qui può nascere anche un messaggio, il messaggio del Made in Calabria e noi lo crediamo veramente molto, ma molto forte. Dobbiamo assolutamente consumare al chilometro zero il prodotto calabrese. La gente comunque viene, vi cerca. Sì, perché noi come punto di riferimento diciamo che siamo produttori, quindi il cliente si affida a noi, insomma, per quanto riguarda, insomma, il prodotto. Noi abbiamo bisogno dell'etichetta perché vendiamo noi direttamente, e quindi sanno cosa mangiano, sanno da dove arriva e, insomma, sono tranquilli di questo fatto. Quindi prodotto che incita alla qualità ma soprattutto al prezzo. Certo, perché noi, insomma, possiamo dare il 30% in meno in confronto agli altri mercati, insomma, del dettaglio, parliamo, come vendita diretta. Senti, in questo momento la Calabria sta subendo un grave danno economico. Noi parliamo di agricoltura, quella proprio to-cour, no? Quella che noi produciamo del prodotto tipico che ci rappresenta, che rappresenta anche la nostra cultura. Se lei dovesse mandare in questo momento un messaggio al presidente della Calabria, Spirli? Spirli, sì. Qual è il messaggio che lei manderebbe? È innanzitutto di cercare di movimentare e facilitare la burocrazia che c'è in regione per quanto riguarda tutte le aziende, visto, insomma, il problema del Covid e via dicendo. Siccome l'agricoltura non è tanto agevolata in questo periodo, di, insomma, rivalutare un po' i piani di, insomma, di finanziamento e cose varie. Buon lavoro. Grazie.